di una scuola di danza a cui vengo molto, in effetti l'ho portato un po' al battesimo, la novità di Pottiello, la maestra della magia e la danza, una scuola di danza che sta crescendo sempre più, la magia della danza di Meryl Pottiello e le fantastiche allievi in una bellissima rumba. A voi! 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 A voi!